Una nuova esperienza e non è neanche facile convertire così velocemente il mio ruolo qui a Gironova dopo aver speso 5 anni sul parquet a battagliare. Sono molto contento, spero in qualche modo di ripagare le attese per quanto riguarda questa nuova esperienza e sono un po' a disposizione e tutte orecchie per fare subito i passi necessari per dare il mio contributo anche da quest'altra parte della linea del campo. Quando si inizierà con la prima palla a due sarà un po' complicato stare buoni e seduti lì magari accanto al tavolo in panchina vicino allo staff, però devo essere sincero mi stimola anche tantissimo questa esperienza quindi la sto prendendo per il momento e sono contentissimo di quello che sta succedendo e quando arriverà quel pizzico di nostalgia sicuramente passerà pensando a quello che sarà il compito da svolgere in quel momento. In realtà il percorso in panchina da allenatore per le giovanini mi piace tantissimo e nel tempo la voglia è sempre cresciuta e anche per il prossimo anno l'obiettivo è quello di fare sempre meglio con i ragazzi. La ripresa sarà penso comunque nelle canoniche 6 settimane antecedenti all'inizio del campionato quindi si parlerà intorno a dopo Ferragosto, però con lo staff dobbiamo ancora rifinire tutti quanti i dettagli. Grazie. Grazie.